Cercano di piratare il trasmettitore 2, gas allucinogeno nemico in arrivo. E' da un altro! Ora ricarico! Il nemico è al trasmettitore 2! Aiutatemi, grazie! Pronti per la ricognizione! Cercano di piratare il trasmettitore 2! Eccone uno! Devo ricaricare! Il nemico è al trasmettitore 2! Hanno il trasmettitore 2! Ricarico! Ora ricarico! Sto ricaricando! Hanno il trasmettitore 2! Hanno fatto scaldare il trasmettitore 2! Noi! Mi permette! L'altro! La vita di piratare! Eccone uno! L'altro! Che pece! L'altro!